Ora si registrerà la conferenza. Perfetto. Allora, quest'oggi andiamo a parlare di il GNSS per il tracking dei lavoratori in cantiere. Il tutto nasce, diciamo, da una demo che abbiamo fatto ormai quasi un paio di anni fa, in cui abbiamo sviluppato sostanzialmente una sorta di prototipo, quindi nulla ovviamente di ingegnerizzato, proprio appunto un prototipo per il tracking di operatori in ambito cantieristico. Poi, diciamo, nell'ultima parte spenderemo forse un paio di parole su che sviluppi ha avuto ecco questa demo che è stata appunto fatta. Allora, ok. Sostanzialmente andiamo ad affrontare, a parlare di quelli che sono i requisiti del sistema, cioè quelli che sostanzialmente ci sono stati richiesti per questa demo, e parleremo poi invece del prototipo sviluppato sia da un punto di vista, diciamo così, client, cioè proprio della strumentazione che viene assegnata, adottata agli operatori in cantiere. ripeto, è un prototipo, quindi nulla di ingegnerizzato, nulla di particolarmente sofisticato. Abbiamo un po' avuto, anche diciamo, da quando se ne è parlato con il cliente a quando poi dovevamo effettivamente dimostrare questa demo, c'era anche stato abbastanza poco tempo, quindi abbiamo un po' utilizzato quello che avevamo più o meno pronto, ma anche parleremo di ciò che è stato sviluppato lato server, perché appunto abbiamo questa dualità server client per mettere in piedi questo sistema. Ah, qua scusate, ovviamente sono dimenticato, abbiate pazienza di modificare le slide, e parleremo di accuratezze che sono registrate, abbiate pazienza, me ne accorgo ora, l'ho fatta purtroppo all'ultimo questa presentazione, le parti fra parentesi vi prego di non leggerle, e in ultimo invece vedremo se una parte un po' più interessante che si scosta leggermente da questa demo, ma che in realtà anche no, nel senso affronteremo se si può utilizzare il GNSS da dispositivi Android per questo tipo di applicazione. Togliamo subito allora la slide che purtroppo era da correggere, iniziamola così, e passiamo subito a quelli che sono i requisiti di sistema. Allora, sostanzialmente l'applicativo riguardava monitoraggio, il tracking di operatori in ambito cantieristico e specificatamente in ambito ferroviario. Sostanzialmente in ambito ferroviario esistono due scenari, sostanzialmente lo scenario in cui i lavoratori possono stare sostanzialmente a lavorare senza una particolare situazione di pericolo e invece diciamo una situazione che può avvenire diverse volte all'interno della giornata, cosiddetta di pericolo. La situazione di pericolo banalmente è il passaggio di un treno nel binario magari adiacente o con lo scarto di un binario rispetto a dove lavorano gli operatori in questo istante. Ovviamente questa descrizione è piuttosto semplificata, però sostanzialmente chiarisce abbastanza bene quelle che possono essere le situazioni. È ovvio che durante la situazione di pericolo c'è bisogno di monitorare in maniera precisa ed efficace la posizione degli operatori e soprattutto vedere che questi vadano in determinate aree delimitate come aree safe. Non è solo importante verificare che gli operatori vadano in questo tipo di aree, ma è anche importante monitorare la staticità degli operatori in queste aree. Questo perché? Perché come in maniera piuttosto abbastanza semplice, semplificata si può vedere dall'immagine nella destra della slide, le aree di tipo safe e le aree di tipo danger sono una adiacente all'altra, il più delle volte quantomeno. In questo caso è importante che siccome nelle aree danger passerà il treno, è importante che gli operatori rimangano fermi e non si muovano nelle aree di tipo safe. Quindi questo sostanzialmente è un po' il quadro della situazione nel quale poi noi siamo intervenuti e siamo andati a sviluppare il nostro prototipo. A questo punto, prima cosa ci siamo chiesti, la tecnologia GNSS è la tecnologia giusta per questo tipo di applicazione? La risposta è per noi, a nostro avviso sì, nel senso che consente di ottenere precisioni richieste in tempo reale, ovviamente con la modalità NRTK. Non ho parlato effettivamente di precisioni richieste nella slide precedente, però sostanzialmente la precisione richiesta è quantomeno una precisione nell'ordine decimetrico. Proprio per il fatto che aree di tipo danger e aree di tipo safe sono una adiacente all'altra, non possiamo permetterci un errore metrico sulla posizione, per esempio quello che viene dato nella modalità stand alone. In modalità NRTK invece è possibile ottenere questo tipo di precisione. Il GPS potrebbe essere l'unica tecnologia in grado di fornire questo tipo di precisione? Beh, probabilmente no, potrebbero esserci sostanzialmente altri sistemi di monitoraggio, diciamo anche al di fuori della geodesia o della geomatica, quali per esempio Tagger FID, queste cose simili, utilizzando beacon, eccetera, però sicuramente richiederebbero una infrastruttura aggiuntiva da installare nel cantiere e poi banalmente noi non siamo particolarmente esperti di questo tipo di applicazioni. Invece il DNS, specialmente in modalità NRTK, in linea di principio almeno non richiede nessun tipo di infrastruttura aggiuntiva da installare in cantiere. Questo sicuramente è anche un vantaggio, in quanto cantieri ferroviari sono cantieri principalmente ad estensione lineare che viaggiano, che diciamo si evolvono molto rapidamente nel tempo, quindi è probabile che appunto nel giro di pochi giorni si debba già avanzare spazialmente e quindi andare a dover replicare un'infrastruttura aggiuntiva per il monitoraggio degli operatori in cantiere, immagino parlavamo prima di Tagger FID o di beacon, quindi se io devo mettere delle strutture, dei pali con degli strumenti fissi, sostanzialmente dovrei praticamente piantarli, non dico giorno dopo giorno, però sostanzialmente bisognerebbe anche prevedere giorno dopo giorno l'installazione di un'infrastruttura aggiuntiva in cantiere, diventa abbastanza oneroso e poco efficiente da un punto di vista dell'economia globale, diciamo del lavoro stesso. Mentre la tecnologia GNSS NRTK tutto sommato richiede che sia presente una rete internet, oppure se anche volessimo fare una rete diciamo RTK locale, dovremmo comunque monumentare una stazione base, quindi mettere un ricevitore che lavora ovviamente in continuo su un palo ed è sicuramente più efficiente da questo punto di vista. Poi ripeto, quello che andiamo a vedere dopo è comunque una semplificazione di tutto un sistema che invece poi applicato alla realtà dovrà prevedere sicuramente un'infrastruttura più solida e più, diciamo, più solida in una fase ovviamente di esercizio, di sviluppo di un prodotto. Però sostanzialmente qua andiamo a indagarne la fattibilità. A questo punto noi vediamo che un altro aspetto e direi non secondario in questo tipo di lavoro o di questo tipo di applicazione è che il GNSS tutto sommato consente di avere o comunque comporta il fatto che sia una strumentazione tutto sommato piccola e facilmente indossabile. Facilmente indossabile significa che non va ad impedire o comunque a impedire i movimenti degli operatori che ovviamente devono lavorare mentre vengono tracciati. Quindi la strumentazione non deve impacciarli in nessun modo. Noi appunto per questa demo abbiamo utilizzato dei ricevitori singola frequenza L1 che sono gli U-Blocks M8T collegati a uno smartphone in modalità USB. Inoltre, vedete nella foto sulla destra, avevamo una piccola antenna che per quanto riguarda la demo poteva essere facilmente diciamo agganciata alla spallina di uno zaino. Ripeto, questa non è una soluzione ingegnerizzata però comunque fa capire che già diciamo a partire da questa soluzione non ingegnerizzata immaginate cosa si può ottenere in termini di strumentazione diciamo piccola e facilmente indossabile. Allora la domanda sorge perché è necessario uno smartphone? In realtà, ripeto, noi abbiamo utilizzato uno smartphone per effettuare un posizionamento e ricevere le correzioni differenziali e poi per dialogare con un server. Ora, è necessario per forza uno smartphone? Probabilmente la risposta è no nel senso che si potrebbe pensare a un dispositivo unico ovviamente nell'ottica di pensare a un prodotto e non a una demo chiaramente a un unico dispositivo che integra diciamo un modem router per connettersi alla rete e ricevere le correzioni differenziali e dialogare con un server. Ma diciamo così, pronti all'uso sostanzialmente per mettere su una demo in, ripeto, in poco tempo l'idea era utilizziamo questo ricevitore GNSS in accoppiata con uno smartphone. Lo smartphone ci garantiva a questo punto di avere l'applicazione RTK Lib pronta per fare un posizionamento NRTK e sostanzialmente abbiamo sviluppato noi una piccola applicazione che vedete sulla vostra destra e adesso poi andiamo a vedere magari in un piccolo video in maggior dettaglio che consenta sostanzialmente due cose all'operatore di vedere in tempo reale la sua posizione sulla mappa di inserire prima di tutto ancora di inserire il suo nome e di essere registrato sul server e poi teoricamente consente all'operatore capocantiere o chi è responsabile di andare a tracciare e a delimitare quelle che sono le aree safe e le aree di tipo danger. Infatti, per come l'avevamo pensata la prima operazione che deve essere fatta da solo un operatore prima ancora che al mattino presto inizino i lavori è proprio la delimitazione di questo tipo di aree. Inoltre, dovevamo implementare un sistema di notifiche per tutti gli operatori della situazione di allerta. Anche in questo caso abbiamo deciso di utilizzare o di agganciarci a infrastrutture esistenti di applicazioni esistenti e in particolare abbiamo deciso di appoggiarci a Telegram. Infatti, Telegram consente lo sviluppo di particolari bot personalizzati quantomeno e il bot in questo caso che possiamo vederlo come una sorta di chat nella quale però l'operatore non è abilitato a scrivere alcun messaggio se non a riceverne e basta appunto consente che tutti gli operatori vengano notificati sia della situazione di imminente pericolo sia della situazione poi di fine pericolo. Chi deciderà di mandare i messaggi è un diciamo sostanzialmente un operatore o qualcuno che lavora diciamo sul server e al quale sa l'esatto momento in cui verranno inizio la situazione di pericolo per cui a lui come vedremo dopo basterà schiacciare un bottone su una particolare interfaccia web e tutti gli operatori riceveranno il messaggio su Telegram dell'inizio di situazione di pericolo a questo punto interrompo leggermente un attimino la condivisione per farvi vedere come funziona l'applicazione che abbiamo sviluppato a questo punto vedete si apre e per prima cosa l'operatore va ad inserire il suo nome è un'applicazione molto grezza anche questa sicuramente non ottimizzata però diciamo il suo lavoro lo fa abbastanza bene per la registrazione del punto vedete che parte un countdown infatti diciamo il tutto funziona in questo modo parte il posizionamento nrtk utilizzando nrtk gps plus e come output noi mandiamo la posizione al server ogni secondo il server associa in una tabella e poi una tabella all'interno di un database vengono memorizzate le posizioni secondo per secondo di ogni operatore per la registrazione del punto abbiamo deciso di non affidarci alla posizione attuale che viene rilevata dall'operatore ma di fare una media tra le precedenti dieci posizioni questo per evitare sempre in maniera abbastanza grossolana eventuali outlier a questo punto vedete che per la registrazione del punto parte un countdown in cui effettivamente vengono selezionate le dieci epoche a partire da quando schiacciamo il tasto registra bottone e di nuovo al termine delle quali verrà fatta una media tra le coordinate e verrà registrato il punto dopo aver registrato almeno tre punti sarà possibile schiacciare il bottone salva area dopo aver specificato il tipo di area da salvare quindi area di tipo danger o area di tipo safety come vediamo adesso avevo disegnato una sorta di rettangolo ecco qua abbiamo registrato il quarto punto ne sarebbero abbastati tre però effettivamente ora ne avevo registrati quattro ho selezionato un tipo di area safety schiacciando salva area ecco qua che viene visualizzato questo rettangolo e questo sarà visibile a tutti gli operatori perché questa diciamo la mappa in realtà è una mappa che è presente sul server quindi è una web view sostanzialmente non è locale nel telefono ma è tutta in realtà su server questa applicazione per la maggior parte in realtà è tutta su server quindi questa stessa vista è visibile da tutti gli utenti diciamo registrati ok torniamo alla nostra presentazione per passare oltre e vedere invece quando riesco a condividere ok per vedere appunto quello che vi dicevo poco fa cioè l'interfaccia web anche in questo caso adesso vi presento questa slide e probabilmente la successiva ma poi vi farò vedere un piccolo video nel quale appunto abbiamo fatto appunto la demo le principali funzioni quindi sono monitorare e salvare la posizione di tutti gli operatori in un database mandare le notifiche agli operatori come vedete qua pericolo in corso e appunto ho messo l'icconcina di telegram perché qui è proprio quello che vi dicevo quando l'operatore che lavora diciamo sul server schiaccerà il bottone pericolo in corso partirà diciamo il bot telegram e tutti gli operatori verranno notificati dell'imminente cioè dell'inizio della situazione di allerta di pericolo e soprattutto è importante che questo sistema lato server monitori in tempo reale lo stato degli operatori durante il periodo di allerta quello che esattamente dicevamo poco fa quindi vede che sostanzialmente tutti gli operatori debbano muoversi verso le aree verdi e soprattutto deve come vedete in questa fase della slide ma forse è meglio in questa ancora dobbiamo vedere monitoriamo quella che è la qualità del posizionamento sostanzialmente questo flag è un flag che viene mandato dal posizionamento effettuato con il ricevitore con RTK-PALIB quindi sostanzialmente la spunta la singola spunta significa qualità di tipo float e la doppia spunta sarà qualità di tipo fix e questa invece la diciamo la barra dist che vedete in questo caso forse il nome è un po' infelice effettivamente dist però sostanzialmente è l'indicatore della staticità o meno dell'operatore cioè quello che succede è che ogni secondo vengono fatte delle query sul database nel quale si confronta la posizione attuale con le 10 precedenti e si calcola sostanzialmente una sorta di distanza tra la media delle precedenti 10 e la posizione attuale se questa distanza è al di fuori di un certo range noi diciamo che l'operatore si sta muovendo se invece è al di sotto di un certo range diciamo che l'operatore è fermo chiaro di nuovo questo è un sistema abbastanza grezzo di certo non lo neghiamo però tutto sommato abbastanza efficace nell'ottica di una demo appunto altra funzionalità invece è importante è che l'interfaccia web dia subito un immediato conteggio di tutti i dispositivi connessi e degli dispositivi che sono all'interno delle aree di sicurezza e di tutti i dispositivi che invece risultano nelle aree in pericolo questo è molto importante perché in realtà diciamo se la situazione di pericolo è il passaggio di un treno con questa visualizzazione l'operatore che lavora appunto sul server è in grado di bloccare il treno in maniera con anticipo finché tutti i dispositivi non risultino in situazione di sicurezza di nuovo allora tolgo la condivisione dello schermo e passiamo a un diciamo a un breve video perché ne farò vedere solamente un pezzettino della demo che è stata effettivamente realizzata qua siamo al campo prova strumenti topografici a Genova Bolzaneto è stata appena mandata una situazione di pericolo per cui vedete che ora si vede leggermente male ma qui il bottone è diventato arancione giallo e tutti i dispositivi si muovono verso le aree safety in realtà questo è proprio il bello della diretta abbiamo avuto un piccolo problema con questo ricevitore GPS per cui in realtà ha avuto appunto dei problemi e nonostante l'operatore si stesse muovendo il ricevitore rimaneva fermo sostanzialmente questo è chiaramente il bello della diretta però ci ha consentito di far vedere appunto il conteggio in cui vediamo dispositivi in sicurezza dispositivi in pericolo zero perché comunque l'operatore non era non risultava in una posizione di pericolo però sostanzialmente ci ha fatto vedere ha dimostrato che il nostro conteggio funziona effettivamente bene vediamo che gli operatori in questo momento due e tre che sono quelli in area verde scusate uno e tre che sono quelli in area verde sono effettivamente statici cosa che volevamo appunto verificare torno a questo punto di nuovo alla presentazione e ok per vedere appunto un riepilogo generale di quello che appunto è stato implementato quindi lato client abbiamo gli operatori che vengono tracciati i quali hanno due strumenti principalmente a loro servizio che sono l'applicazione il strumento GPS ovviamente piccolo indossabile e che non è di impaccio l'applicazione RTK GPS Plus per il posizionamento GNSS in modalità NRTK e l'applicazione sviluppata ad hoc che serve per essere registrati sul sistema quindi associare la loro posizione il loro nome o un loro identificativo e per questo principalmente per il capocantiero per il responsabile delimitare quelle che sono aree safety e aree di tipo danger comunicano come vi dicevo la loro posizione al server che presenta questo tipo di interfaccia per cui riusciamo come vedete a monitorare la posizione degli operatori a salvarla su un database e a inviare quelle che sono le situazioni di pericolo le inviamo lato telegram quindi effettivamente l'operatore ha a disposizione anche telegram e appena riceverà la notifica sullo smartphone sarà tenuto a recarsi nelle aree di tipo safety e a rimanerci fermo a questo punto passiamo diciamo a questa seconda parte della presentazione in cui andiamo a chiederci ma perché non utilizzare a questo punto il il GNSS il ricevitore GNSS già integrato in uno smartphone effettivamente sarebbe uno strumento in meno per i ricevitori e soprattutto uno strumento che i normali smartphone hanno già integrato al loro interno quindi nel caso di questa demo chiaramente dovremmo immaginare niente fili niente antenne da diciamo da come dire da da posizionare su o sulla spallina dello zaino nel nostro caso o si pensava per esempio per gli operatori sull'elmetto comunque diciamo sicuramente garantirebbe una strumentazione ancora più compatta però diciamo che così out of the box noi non possiamo fidarci della cosiddetta android fine location che è sostanzialmente la la posizione che viene tirata fuori dal ricevitore GNSS così quando per esempio accediamo a google maps o a una qualsiasi applicazione che utilizza il gps nello smartphone abbiamo poche informazioni riguardante la riguardanti la precisione di questa di questa posizione e sicuramente non non ci fidiamo nel di raggiungere sostanzialmente quella che è un posizionamento quanto meno di livello decimitrico però cosa succede cosa interessante e qua veniamo sostanzialmente in un ambito a me abbastanza caro che dal maggio del 2016 google ha annunciato la diciamo la disponibilità di accedere ai dati grezzi GNSS da dispositivi android questo vuol dire che fino al maggio del 2016 era possibile una volta che si accedeva al gps dello smartphone avere solamente informazioni sulla posizione in termini di coordinate e poco altro mentre da questo appunto dal 2016 è possibile accedere a quelle che sono le osservabili grezze quindi banalmente le misure di codice e le misure di fase diciamo che da questo punto diciamo la strumentazione oppure gli algoritmi meglio dire per calcolare per effettuare un posizionamento nrtk sono qualcosa chiaramente di già noto in letteratura e adesso abbiamo anche diciamo gli input necessari da smartphone per poter fare questo tipo di posizionamento per cui in linea di principio potrebbe essere una buona soluzione detto questo diciamo ad oggi direi non non abbiamo trovato alcune applicazioni che riescano ad effettuare un posizionamento nrtk utilizzando i dati grezzi dagli smartphone lo stesso rtk gps plus che è l'applicazione che citavo poc'anzi fa effettivamente un posizionamento nrtk però utilizza un ricevitore gnss esterno non quello inglobato nello smartphone noi l'avevamo collegato via usb è anche vero che si può collegare via bluetooth ma si possono essere diversi modi quello che è importante è che non utilizza i dati del ricevitore gps integrati nel telefono lato nostro abbiamo deciso quindi di fare alcuni test andando però ad agire in modalità post-processing e capire da questi test se poi c'è la possibilità di ottenere le precisioni che vorremmo ottenere lato poi nrtk di fatto abbiamo utilizzato un post-processing abbiamo utilizzato un post-processing simulando di fatto grosso modo quello che può essere un posizionamento nrtk in modalità base rover rtk lib in questo senso ci viene d'aiuto in quanto proprio nel suo metodo di processing dei dati di gnss fa esattamente questo tipo di processing cioè prende due ricevitori una base e un rover e li processa epoca per epoca anche diciamo in modalità post-processing static per cui diciamo è possibile simulare questo tipo di situazione per questi test abbiamo utilizzato abbiamo voluto sostanzialmente comparare per renderci conto principalmente delle precisioni e delle accuratezze ottenibili da questi tipi di device volutamente abbiamo utilizzato tre ricevitori di fasce totalmente differenti in particolare abbiamo utilizzato uno stone xsc600 che possiamo diciamo definire di livello di livello geodetico come ricevitore gnss lo ublox neam 8t che è lo stesso di cui abbiamo parlato fino ad adesso e lo xiaomi mi 8 che invece è un ricevitore integrato in uno smartphone che tra l'altro diciamo così per curiosità è un ricevitore in doppia frequenza doppia frequenza però non l1 e l2 ma l1 e l5 in questo caso chiaramente essendo ricevitori molto diversi fra di loro ad esempio lo stonex sc600 è un ricevitore multicostellazione multifrequenza mentre lo ublox m8t è un ricevitore multicostellazione ma singola frequenza e lo xiaomi diciamo è multifrequenza ma la l5 di fatto non riusciamo ad utilizzarla perché non abbiamo una base che diciamo legga o comunque che riceva anche la l5 abbiamo chiaramente deciso di processare tutti i dati come se fossero ricevitori in singola frequenza per la sola costellazione gps altra cosa prima di mostrare i risultati che va detta è che la foto non rende particolarmente giustizia alle condizioni al contorno ma siamo in un ambiente di urban canyon particolarmente ostile per il posizionamento gnss detto questo possiamo vedere anzitutto da questo grafico innanzitutto la differenza in termini di rapporto segnale rumore come ci aspettiamo sostanzialmente il grafico sulla vostra a sinistra è una media del segnale rumore di tutti i satelliti osservati dai tre ricevitori è ovvio che il ricevitore geodetico abbia delle performance decisamente migliori rispetto agli altri due però vediamo che il ricevitore ublox per quanto comunque sia più rumoroso rispetto al ricevitore geodetico lo risulta molto meno rispetto al ricevitore diciamo smartphone e questo di nuovo è un risultato abbastanza atteso perché perché lo smartphone pecca proprio sull'antenna dove sicuramente non è pensata per un posizionamento gps a differenza delle antenne inglobate o comunque negli altri due ricevitori e questo sicuramente è un fattore determinante per quanto riguarda poi il posizionamento questo fatto lo si vede tanto più nel diciamo nella parte destra della slide in cui vengono rappresentati il rapporto segnale rumore per un satellite per tutti e tre i ricevitori dove la linea blu è il ricevitore Stonex SC600 la linea arancione è il ricevitore Ublox mentre la linea verde è il ricevitore appunto Xiaomi detto questo vediamo che il appunto processandoli tutti e tre con base Genova Genova è il ricevitore GNSS della rete Ligure che è situato a in realtà meno di un chilometro o poco più di un chilometro insomma siamo più o meno lì dal punto dove è stato fatto il test vediamo che il ricevitore Stonex ha un livello di accuratezza di precisione centimetrico il ricevitore Ublox arriva a dei decimetri a parte qualche outlier che sono diciamo dei falsi fissaggi mentre vediamo sulla destra una situazione abbastanza disastrosa per il ricevitore Xiaomi va detto quindi che i primi due allo stato attuale possono essere utilizzati per quanto riguarda l'applicazione di cui parlavamo finora mentre vedendo appunto questo test non ci sentiamo di dire che lo smartphone possa essere utilizzato in tal senso è chiaro però che questo è un primo test diciamo io personalmente sto facendo un dottorato di ricerca riguardante il GNSS proveniente da smartphone e posso dire che questo è uno dei test venuto male ma diciamo in determinate condizioni diverse da queste non in urban canyon ok sono comunque riuscito ad ottenere precisioni migliore a volte anche submetriche non ancora però comparabili in maniera così efficace con quelle ottenibili da un ricevitore Ublox quindi a maggior ragione non lo saranno con ovviamente il ricevitore diciamo geodetico in questo caso dello Stonex però voglio dire diciamo che quello che voglio dire allo stato attuale ovviamente non si riescono ad utilizzare con ricerca e sviluppo su questo probabilmente si potranno fare dei passi in avanti per cui potrebbe essere tutto invece possibile e utilizzabile a questo punto diciamo che avrei concluso questa piccola presentazione di questa demo che abbiamo stata fatta e in conclusione possiamo dire che il posizionamento NRTK a nostro avviso è una buona scelta per questo tipo di applicazione ripeto non l'unica sicuramente non l'unica esistono diversi diversi altri metodi di posizionamento parlavo prima citavo beacon piuttosto che tagger fid eccetera eccetera sicuramente possono essere indagati e si può valutare cosa sia meglio utilizzare rispetto uno cioè rispetto all'altro nel nostro caso noi essendo diciamo abbastanza bravi o comunque come dire consci della strumentazione GNSS abbiamo deciso di intraprendere questa strada sicuramente il GNSS potrebbe essere utilizzato non diciamo in autonomia ma integrato con dei sensori tipo IMU quello sicuramente aiuterebbe decisamente e un altro aspetto che non ho volutamente in realtà citato in tutta la presentazione un po' perché non l'abbiamo affrontato anche se in realtà è un aspetto chiave è non solo affrontare la precisione in questo tipo di applicazioni ma soprattutto la robustezza del posizionamento cioè bisogna essere certi che effettivamente la posizione che si stia calcolando sia effettivamente quella questo è ovviamente un aspetto chiave per applicazioni di questo tipo come prospettive mi sentirei di dire che sicuramente vi è da indagare in maggior dettaglio la possibilità di sfruttare il GNSS integrato negli smartphone nell'ottica comunque di produrre o di avere una strumentazione ancora più compatta e integrata valutare ovviamente anche integrazione GNSS e IMU e soprattutto la robustezza nel posizionamento questo è efficace in in coda a questo punto vorrevo accennare che questa questa demo poi in realtà è stata si è evoluta in un certo senso in un progetto ESA chiamato SEMOR insieme noi non siamo azienda prime di questo progetto che è diciamo Cconsulting comunque sostanzialmente noi lavoreremo ancora a questo a questo progetto con appunto con Cconsulting con Level e con RFI per andare poi in realtà a implementare più o meno quello che dicevamo sopra in quest'ultima slide in particolare lato nostro la robustezza nel posizionamento SEMOR SEMOR chiaramente è molto più complesso e articolato di quello che vi ho raccontato finora diciamo che quello che vi ho raccontato finora ha dato un po' il là a quanto riguarda la parte nel posizionamento di SEMOR che poi in realtà anche questa è stata rivista ovviamente e sarà implementata in maniera comunque diversa però diciamo questa è stata un po' l'evoluzione delle cose a questo punto io vi ringrazio per l'attenzione vi invito al prossimo appuntamento dei nostri job break che si terrà il 9 giugno sempre alle 8.30 nel quale parleremo di strumenti per la gestione e manutenzione e il monitoraggio dei ponti esistenti quindi parliamo principalmente di nuovo di lasciamo un po' il mondo GNSS e in un certo senso torniamo a parlare di GIS e GeoDatabase detto questo direi che lascio spazio alle vostre domande potete pure aprirvi il microfono se volete o se no vedo che potete scriverle direttamente in chat grazie a tutti 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 ci sono domande bene a questo punto direi che se non sorgono altre domande chiuderei qui la registrazione e appunto vi auguro una buona giornata grazie a tutti